Amare la parola di Dio di Padre Stefano Maria Manelli. La Madonna del Buon Consiglio, con i suoi primi materni consigli, ci ha raccomandato di impegnarci generosamente ad ascoltare la parola di Dio. Adesso ella ci raccomanda di impegnarci non solo ad ascoltare, ma ancor più ad amare la parola di Dio. Amare la parola di Dio. A sentire i discorsi degli uomini nel mondo purtroppo si sa che viene subito da chiedersi, ma chi può amare la parola di Dio nel mondo? Si sa fin troppo bene, infatti, che nel mondo le parole degli uomini bombardano le persone con il turpiloquio, la vestemmia, la menzogna e appestano l'aria per mezzo dei mass media, radio, televisione, telefoni, cellulari, computer, stampa, spettacoli. E con fiumi di parole scritte, cantate o urlate sono pressoché sempre parole di carne, di soldi, di fango, di immondizie e di peccati. Povere parole e povera umanità. Pensiamo invece alla parola di Dio, amata da San Francesco d'Assisi, che nella porziuncola di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, ascolta la parola del Vangelo dei poveri durante la Santa Messa e viene acceso da una fiamma di amore divino che lo farà diventare il serafico poverello di Assisi. Pensiamo a Santa Chiara d'Assisi, la Vergine pura, che ascolta la parola di Dio predicata da San Francesco d'Assisi, il tutto serafico in ardore, come lo definisce Dante Lighieri, che le incendia il cuore di amore virginale a Gesù, lo sposo di infinito amore. Pensiamo a San Pio da Pietrelcina, che da ragazzo ascolta una predica su San Michele Arcangelo, il principe delle milizie celesti, tutto di Dio, e si innamora della vita angelica entrando nel serafico ordine francescano per rivivere tutto Gesù crocifisso. Pensiamo anche ai tre pastorelli di Fatima, Santa Giacinta, San Francesco e la serva di Dio, Lucia, che all'ascolto delle parole della Madonna si trasformano in tre vittime d'amore angelico, raggiungendo presto la Madonna in Paradiso. Giacinta e Francesco, ragazzini, con Sor Lucia, che ha vissuto a lungo consacrata a Dio nel Carmelo della Madonna. Questi sono i veri frutti dell'amore alla parola di Dio? È chiaro, dal resto, che l'esempio sublime dell'amore alla parola di Dio ci viene appunto dalla Madonna che, immacolata, vergine e adolescente, ascoltò e amò la parola di Dio attraverso l'angelo Gabriele, subito dopo averne compreso bene il contenuto e il valore. Ella, compreso con la mente, amato col cuore. In tal modo la mente e il cuore della Madonna sono stati ricolmati dalla luce e del calore della parola di Dio, ossia si sono riempiti della verità e dell'amore di ogni parola di Dio. E allora valga anche per noi che la parola di Dio deve impegnare la mente alla comprensione della verità divina e ancor più deve impegnare il cuore all'esperienza dell'amore divino, di cui riempirsi fino a traboccare nel dono ai fratelli. La Madonna ci dona perciò il suo esempio e i suoi materni consigli all'ascolto attento e devoto della parola di Dio per poterla capire e amare nella sua bellezza e sapienza, nella sua potenza e bontà che discendono dall'alto della mente e del cuore di Dio infinita verità e amore. Ecco un significativo e istruttivo episodio di fede capitato parecchi anni fa a Lourdes, fra gli ammalati di un treno bianco dell'Unitalsi. Nel pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes, tra gli ammalati, c'era una pia giovanetta, sorda e muta, portata per ottenere dall'immacolata la grazia della sua guarigione. Dinanzi alla grotta della Madonna, la pia giovanetta ammalata è rimasta tutta raccolta in devota e lunga preghiera, anche da sola. Alcuni conoscenti, che comprendevano il mutuo linguaggio dei gesti di quella ragazza, sordo-muta, si avvicinarono e la interrogarono. Hai chiesto alla Madonna che ti faccia guarire? No, no, no. Perché? Perché guarendo temo che sentirei la voce degli altri, ma non sentirei più la voce di Gesù che mi parla e mi dice tante cose sante da custodire sempre nel mio cuore. Questa è la sapienza della parola di Dio, rivelata ai piccoli.